La battipagliese ha tesserato il centrocampista Jo Asante. Ganese classe 1991, Asante è cresciuto calcisticamente nel Mantua, dove ha raccolto circa 40 presenze in Serie B. Successivamente ha vestito le casacche di Nuova Cosenza, Monza, Gavorrano, Città di Castello, Palmese e Castelvetro. Asante, che ha assistito dai procuratori Valentino Viviani e Stefano Squitieri, ha anche raccolto due presenze con la Nazionale del Gana. Al momento della firma, Asante ha dichiarato di essere molto contento di essere arrivato alla battipagliese ed ha ringraziato i procuratori e il direttore Guariglia che hanno creduto in lui.